Il servizio pubblico radio televisivo sta per cambiare e prenderà forma con le tue idee, le tue opinioni, i tuoi sogni. Sarà più live, più on-domanda, più aperto alle novità, più internazionale, più ricco di cultura, di tecnologia. Rispondi al questionario sul sito cambierai.gov.it Come sarà il servizio pubblico di domani, per la prima volta puoi deciderlo tu. Grazie.